È successo che mi è preso la decisione di andare a cercare questi funghi con un'altra persona che poi l'altra persona aveva un'azienda di cui non è potuto venire e ho deciso di andare da solo, prendere la macchina e andare a cercarli da solo. Quando sono arrivato in via Scopieti ho deciso di mettere la macchina dentro il bosco e dentro il bosco c'era una tenda e una golfe bianca come avevo io, ho deciso di metterla lì e lasciarla aperta proprio accanto a loro perché la macchina sarebbe stata sicura senza che nessuno la toccasse essendoci altre persone. C'era questa tenda sulla sinistra, la macchina era di fronte a me, parcheggiata con il muso come uscire dallo stradello. Io ho parcheggiato proprio accanto, proprio accanto alla sua. Era uguale identica alla mia, solita golfe bianca, solito modello, solito tutto. Ho detto guarda questi dove si sono messi a dormire. Nella macchina di questa coppia ho notato un seggiolino da bambini. L'unica cosa che mi è venuto di guardare dentro la macchina è questo seggiolino dei bambini con delle pannocchie di Gran Turco. Di solito quando abbiamo dei bambini piccini diamo queste cose per giocare, per fargli stare zitti, diamo queste pannocchie. Però non ho fatto caso né alla tenda tagliata né niente. Non mi ha dato nemmeno l'occhio le superga che erano al di fuori della tenda insanguinate. Proprio non ho guardato la tenda. Ho guardato un attimo la macchina ma poi ho detto che ero nel bosco. Entrando nel bosco non sono riuscito a passare da questa stradiello perché c'erano delle discariche. Sembrava una discarica, no? Averci scaricato un camion di bidoni. Sono andato a passare da un'altra parte di cui anche lì ci avevano scaricato un po' di materiale però sono riuscito a passare. Poi scendendo nello stradello ho sentito un gran ronzio di mosche. Questo ho sentito. E mi ha portato a dire ma nello stradello così queste mosche cosa hanno buttato un animale, no? Io ho pensato una cosa così perché c'è questo ma era uno sciame enorme. E mi è venuto ad andare a vedere. La curiosità a volte, diciamo così, si va a curiosare cose che proprio... Quanti anni aveva lei? Io avevo 18 anni. 18 anni. Ero 85-18 anni. Andando a vedere cosa era la curiosità che era più forte di te, andare a vedere, mi sono accorto di questo corpo. Di questa persona che era stata buttata lì o forse ammazzata lì e poi ricoperta con questi bidoni di vernice. Questo di che il problema era stato sguazzato, era stato insomma... Ma si vedeva qualcosa? Si vedeva i piedi? Si vedeva il nostro? Si vedeva il corpo nudo tagliato. Tagliato. Si vedeva questo corpo tagliato. Allora io cosa ho fatto? Sono tornato indietro e ho guardato allora meglio la macchina, ho guardato meglio la tenda. E lì mi sono accorto che la tenda era stata tagliata con un set, un coltello e poi c'era questa superga fuori con i piedi insanguinati. Però per me era un litigio di coppia, non che pensavo al mostro. Era un litigio fra questa coppia, è un omicidio, ho ammazzato loro, ecco. Però non ho pensato tanto a loro, ma ho pensato ai seggiunieri bambini. Ho detto qui c'è un bambino che dove sarà? Sarà scappato? Sarà nel bosco? Sarà qui? Cosa pensi? Non pensi mica loro? Loro sono morti ormai, sono lì. Però il bambino... Fece caso magari a dell'odore che si sentiva? No, non si sentiva l'odore, si sentiva queste mosche, ma erano talmente tante che uno sciame enorme di mosche, perché c'era il sangue, c'era il sangue e portava... Ma verso le scarpe delle superga che erano insanguinate non c'erano le mosche, ma invece sui corpi sì, perché era stato tagliato. La decisione fu di non dire niente a nessuno, lo dico chiaro, non è che... Perché la paura era più... che eri indagato te, che loro... che ho detto quello che è successo. Però io pensavo sempre, non lo dico, ma il bambino dove sarà? Questo bambino? Perché è un bambino vicino. Se hai girato nel bosco, hai scappato, quella cosa, quell'altra. La paura era tanta, te lo dico. Ho preso la macchina e sono venuto via. Sono venuto via, ho detto, non dico nulla a nessuno. Poi sono arrivato a casa, logicamente... Eri bianco praticamente, perché veramente ce l'avevi, insomma, vedere queste cose a 18 anni. E' una cosa... poi ti ho detto, non pensando ai mostro io, non pensando. Perché dopo il mio bambino mi disse, ma che ti ha fatto, tu sei bianco, ha paura, quella cosa... Poi un resto glielo dissi, glielo dissi, vabbè, si chiamò la caserma, c'era il maresciallo, c'era rodato poi all'epoca, non lo ricordo, e mi disse, vabbè, andiamo giù, andiamo a vedere. E lei tornò sulla piazzola? Rimasi sulla strada, perché ce l'avevo sempre... io lo volevo rivedere, perché io dalla strada gli indicai dove erano i corpi, uno era poi nella tenda, uno era tra i bidoni. Come faceva sapere che nella tenda c'era un altro corpo? Perché si vedevano i piedi, questi piedi con le superga tutte insanguinate, si vedevano qui. Perché quando arrivano lassù i carabinieri che vedono i primi postoli di questi, mi dissero, mi disse subito il maresciallo, è stato il mostro e da lì allora mi liberai anche io un po', ho capito, ecco, questo, mi dispiace per loro, ma la liberazione mia fu quella, ecco, diciamo. E lei andò a fare il verbale? Io andavo a fare il verbale in caserma, andai, mi dissero che stai il mostro, non c'era nessun cos'è, ma poi io partì militare dopo due o tre giorni, sì che fu uno scioglimento totale un po', però, insomma, c'è sempre rimasto addosso questa cosa, ecco. Lei c'era già stato in questa piazzola, aveva, era la prima volta? No, io c'è andavo scopreti, sai, erano boschi più vicino per noi, come tanti altri boschi, ci si andava un po' a cercare i funghi, a cercare queste cose. Aveva mai notato la presenza di guardoni, di persone, insomma? No, 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 assolutamente, ma nemmeno macchine ferme più di tanto, ecco, diciamo, perché poi alla fine lì a 100 metri c'è un ristorante, la baracchina è sempre stata molto attiva come ristorazione, però macchine anche ferme, non le ho mai notate, sulla strada sì, ma non a volte dentro le piazzole così, ecco, sì che... E lei ha sempre vissuto a San Casciano? Sempre a San Casciano, sì. E quindi conosce chiaramente la vita del paese, le persone che lo hanno frequentato negli anni, penso, e avrebbe sicuramente sentito parlare di Giancarlo Lotti, Mario Vanni, Pacciani, queste persone. Sì, io, diciamo, ero giovane, non è che avevo una storia di queste persone, ora è diventato mio soci, ero il ristorante Nello dove andavano a mangiare, e la cantinetta è no, però non è che io, io non stavo, diciamo, con mia moglie, perché non conoscevo loro, sì, perché andavano a mangiare, poi troppo è venuta fuori la cosa. Poi, stando con la mia moglie, ho conosciuto questi personaggi e mi sono rimasti scherzando, ti ho detto, gli davo noia, perché gli davo veramente noia. Questi personaggi nello specifico? Mario Vanni, Katanga, li chiamavano Katanga, allora... Pacciani era l'unico, non l'avevo mai visto, l'avevo visto perché frequentando da ragazzi un po' mercatale, sapevi che quello era il Pacciani perché aveva due figli un po' strane, poi il figliole, era quello, ecco, perché lo conoscevi, perché dicevano, gli dava noia, gli faceva qui, gli faceva... però non è di persona che lo conoscevo, invece restate sì, perché ti ho detto ci scherzavo e quando disse che erano in mostro, per me... Io ho detto di biscare a tutti perché dico, vabbè, forse c'è altre cose dietro perché non è possibile che queste persone abbiano fatto queste cose, ecco, diciamo, erano, ti ho detto, erano amici di Miranda, gli chiamavano, no, però non ho nulla di particolare, erano compagnie, come ci può essere loro, ecco, però... Gente pacifica, dice, no? Per me sì, gente molto pacifica. Non li ha mai visti arrabbiati per qualche motivo, proprio perché magari erano presi in giro, proprio perché erano... Io sono un rompiscatolo e mi diverto con le persone un po' più anziane a dare noia anche oggi, o tutt'ora a dargli noia e tutto, però se non gli dai noia, vedi la persona anziana e lei che ti viene a cercare a volte e dire no, ma non mi dici nulla oggi, però erano scherzi che si faceva, io gli facevo, anzi, Katanga specialmente, era uno che... lui faceva karate, mi ricordo qualcosa, sapeva delle arti marziali, diceva lui, poi non l'ha mai fatto, però era una persona enorme, anche se non faceva arti marziali, ma gli dava uno schiaffo, ti avrebbe ammazzato perché aveva delle mani e lavorando non aveva lui, però era scherzoso, non era che si arrabbiava, si rosava, poi sai, le persone si finisce mai imparare a conoscere. Mai comunque sentito parlare di armi, di pistole, di coltelli, di niente? Mai, queste cose mai, assolutamente. Le risulta difficile che magari appunto siano stati indagati e anche condannati per i delitti del vostro evidenza? Per me è una cosa che ho sempre detto veramente, che mi sembra stranissimo, ti ho detto, non so se li hanno voluti indagare per prendere i primi tre o quattro bischi di paese, come si diceva da noi, e chiudere il cerchio, no? Perché se no era una cosa che purtroppo stava andando troppo avanti, da anni, da anni, da anni, e allora poi chiuderlo, poi non è successo più nulla, da quell'anno per fortuna, meno male, ecco, però non credo che siano stati loro a risolvere il problema che non succedeva più. Lei è stato risentito poi dopo da polizia arabinieri? No, mai più? Mai, non mi hanno più intervistato, assolutamente. Non è stato chiamato a deporre niente? No, no, mai niente. Di Giancarlo Lotti soprattutto c'è un po' la leggenda che, ci sono due dei tipi di leggenda, c'è chi lo crede il mostro di Firenze addirittura come assassino unico e chi invece dice, vabbè, ma questa è una persona semplice, è impossibile che abbia commesso questi omicidi. Per me è una cosa che è quasi impossibile che abbia fatto queste cose, come ti ripeto, perché per me non ci arrivavano a poter, non era ammazzare una persona, ma era quello che gli facevano dopo alla persona, di levargli la pelle e non è una cosa che lo può fare uno così, non è che mi dai un coltello a me, vada lì, spelli, capito? È difficile già spellare un coniglio, figurati per spellare una persona. Io sono sempre stato dell'opinione e anche oggi sono dell'opinione che loro non c'entravano niente in questi fatti. Poi parlando ora con le sociele, ho diventato mio sociele, ho detto, è ancora meglio riesco a capire i personaggi. Di queste storie invece che si raccontano riguardo Lotti, riguardo di questi scherzi che gli venivano fatti, ce n'è qualcuno che si ricorda in particolar modo o a cui ha partecipato? Io mi ricordo uno scherzo quando l'abbiamo portata in mare che rispingeva le onde del mare e dandogli cazzotti gli diceva oh torna indietro, oh perché non aveva mai visto nemmeno il mare alla fine. Quando avvenne questa cosa? Ma avvenne il 90, sì dopo qualche anno che il mio socio li portava in mare, lui si divertiva, ci si divertiva proprio con dei personaggi che erano curiosi. Ma mi ricordo il mio suocero mi raccontava di quando sono partiti loro per il mare e sono andati a Rimini e si sono spediti, praticamente hanno spedito una cartolina al mio suocero al ristorante e questa cartolina non è mai arrivata perché praticamente hanno scritto il destinatario, il mittente, il mittente è il destinatario e lui ce l'aveva nel ristorante come se sei già qui, capisci che non potevano arrivare a fare queste cose, questo è stato per me distruggere un paese perché siamo riportati un po' per bocca da tutte le parti, io vedo quando vado a Milano per lavoro la prima cosa dicono il mostro di Scandicci, no Cicci, il mostro di Scandicci dicevano, siamo un po' riportati così però ci si ride solo, passerà, ti ho detto ci vorrà un po' di anni. Riguardo alla voce secondo cui Lotti sarebbe stato omosessuale o comunque avesse avuto tendenze omosessuali, lei è? Io anche a questo ci credo veramente poco, poi sai nella persona non so mai mai il pomeriggio può essere una persona e la notte si può trasformare, questo è difficile poterlo capire però tutto detto, tutto lo ripeto, per me erano personaggi di paese divertenti ma non che arrivassero a queste cose qua. Grazie. 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 Grazie.